Proseguono le riprese del film Aquile Randage, oggi intervistiamo il Cardinale Schuster che abbia un ruolo importante nella vicenda degli scout e Giulio Cesare Uccellini, capo del Milano 2, che prenderà il nome di Kelly. Qual è il ruolo del Cardinale Schuster all'interno di questa vicenda, di questo film? Un ruolo delicatissimo perché potrebbe passare per quello che non è, nel senso che a un certo punto, dopo questa fucilazione di queste persone in questa piazza, viene interpellato da Don Giovanni e gli viene chiesto di fare una processione, di benedire questi corpi. Lui però non lo fa, manda Don Giovanni a benedirli solamente perché ha paura di rappresaglie, non per vigliaccheria. E questo è veramente un filo di rasoio su cui bisogna fare attenzione perché potrebbe passare per quello che non è. Invece non è quello che sembra, ma quello che facciamo sembrare. Il mio ruolo è quello di Giulio Cesare Uccellini, detto Kelly, il suo soprannome, nome di battaglia, ed è praticamente il capo squadriglia delle Aquile Randage, colui che conduce il movimento durante il quasi ventennio di attività delle Aquile Randage. Ecco, nelle scene che ti vedrà il protagonista, tu dovrai organizzare una nuova attività. Esattamente, all'interno del gruppo clandestino Aquile Randage, dopo alcuni anni, inizieremo quest'altra attività che si chiama Oscar, in cui prenderemo prigionieri di guerra perseguitati politici e li accompagneremo al confine svizzero per liberarli dai nazisti e dai fascisti. So che poi, dopo la fine della guerra, avete aiutato gli stessi fascisti nazisti a scappare. Sì, diciamo che la promessa che hanno compiuto loro in quanto scout era di aiutare il prossimo in ogni circostanza. Quindi, se prima i nemici da combattere erano i nazi fascisti, a momento della fine della guerra, quando poi il movimento partigiano, quando poi i nazi fascisti sono diventati loro i perseguitati, hanno deciso di salvare anche loro, di portare loro al confine svizzero e di lasciare, come dire, di non essere protagonisti della loro condanna, di non giustiziare nessuno, lasciavano il loro destino alla legge o a Dio.